Siamo qua con Mantuano, numero 3 dei Gunners. Allora, di questa partita sicuramente siete soddisfatti. Questa prima giornata, insomma, che cosa ci dici in generale? Andà abbastanza bene, abbiamo trovato subito i due gol. Loro sono comunque una bella squadra quadrata, giocano bene. Partono dal basso, quindi vuol dire che hanno buone qualità. Noi però siamo stati più determinati nella porta. Al secondo tempo abbiamo un po' gestito, loro hanno sbagliato parecchi gol. Avrebbero potuto fare due o tre gol, ma sono stati un po' sfortunati sicuramente. E noi abbiamo gestito, abbiamo fatto dei cambi. Comunque, come andavamo in velocità e in profondità, riusciamo sempre a trovare il gol. Quindi comunque molto soddisfatti. Una buona partita, abbiamo giocato tutti. Siamo un bel gruppo, grazie al nostro presidente Daniele Giannone. E siamo molto soddisfatti. Grazie a Mantuano, buona ferata. Grazie a voi, buona ferata.